La nostra speranza è una persona, Gesù, che riconosciamo vivo e presente in noi e nei fratelli. Per questo dobbiamo lasciare che sia visibile e che agisca in noi facendo del bene anche a chi ci fa del male. Chi invece non ha questa speranza, come i mafiosi, non riesce a perdonare e pensa di vincere il male con il male, con la vendetta. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale sulla Speranza Cristiana tenuta in Piazza San Pietro sul tema Rendere ragione della speranza che è in noi. Commentando il brano della prima lettera nella quale l'Apostolo Pietro invita i cristiani a rispondere al male augurando il bene, il Papa ha spiegato che il segreto della carica di consolazione di questo brano sta nel mistero pasquale. Perché Cristo è risorto, è vivo e abita nel nostro cuore, per cui deve diventare il nostro modello di vita. Dobbiamo imparare a comportarci come Lui, a far uscire la nostra speranza con la dolcezza e il rispetto e la benevolenza verso il prossimo, fino a perdonare chi ci fa del male. Una persona che non ha speranza non riesce a perdonare, non riesce a dare la consolazione del perdono e a avere la consolazione di perdonare. Sì, perché così ha fatto Gesù e così continua a fare attraverso coloro che gli fanno spazio nel loro cuore e nella loro vita, nella consapevolezza che il male non lo si vince con il male, ma con l'umiltà, la misericordia e l'amitezza. I mafiosi pensano che il male si può vincere con il male e così fanno la vendetta e fanno tante cose che noi tutti sappiamo, ma non conoscono cosa sia umiltà, misericordia e l'amitezza. E perché? Perché i mafiosi non hanno speranza. Chi impara a soffrire per il bene, ha concluso il Pontefice, è in comunione con Cristo e sparge intorno a sé semi di ressurrezione e di vita.